altro sangue sulle strade muore un 49enne sull'ardizio capitale della cultura domani è il giorno della proclamazione effetto ucraina nei supermercati c'è chi fa scorte di olio e farina caritas già 50 mila euro donati alle popolazioni in guerra a fossombrone il festival del tartuffo bianchetto e vino bianchello buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 15 marzo e apriamo questa edizione occupandoci purtroppo di un altro incidente mortale a perdere la vita questa mattina è stato infatti un uomo di 49 anni altro sangue sulle strade ad una settimana esatta dal tragico decesso delle sedicenne pesarese marco ragnetti morto sull'urbinate a borgo santa maria in sella al suo scooter mentre si stava arrecando a scuola oggi un altro incidente mortale ancora di martedì mattina ancora poco prima delle otto ancora uno scooterista che perde la vita scontrandosi con un mezzo pesante questa volta il sinistro fatale è accaduto sulla strada panoramica ardizio a perdere la vita un operaio 49enne residente a fano v o alle sue iniziali che si è scontrato con un piccolo autocarro da lavoro guidato da un 36enne pesarese la ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto ha evidenziato come il malcapitato 49enne stesse percorrendo la strada in direzione fano e ha finito per scontrarsi con il furgone che si stava immettendo da una stradina privata sulla stessa corsia di marcia della panoramica svoltando in direzione centro di pesaro lo scooterista ha finito per schiantarsi fatalmente contro la fiancata sinistra del furgone immediato l'intervento dei sanitari del 118 ma la gravità delle lesioni riportate sono risultate da subito troppo gravi nonostante gli immediati tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno arginato una perdita di carburante dal manto stradale e cambiamo argomento domani infatti pesaro saprà se avrà vinto o meno il titolo di capitale italiana della cultura 2024 è stata fissata infatti per domani mattina alle ore 11 al ministero della cultura di roma la cerimonia di proclamazione della vincitrice nell'occasione la giuria presieduta da silvia calandrelli comunicherà al ministro dario franceschini la città designata la cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale youtube del ministero della cultura ricordiamo che pesaro se la giocherà con le altre nove finaliste ascoli piceno chioggia grosseto mesagne sestri levante siracusa viareggio vicenza e l'unione dei comuni pestum alto cilento e prima di passare alla prossima notizia vi voglio ricordare che da oggi e fino al 17 marzo avete tempo per risintonizzare i vostri televisori e vedere sul canale 80 rossini tv infatti oggi è partito appunto lo switch off nella nostra provincia di pesaro urbino se collegandovi al 633 non riuscirete più a vedere rossini tv vuol dire che ci troverete già sul canale 80 quindi risintonizzate i canali e cercate rossini tv sul canale 80 e da giorni nei supermercati si sta assistendo ad un anomalo svuotamento degli scaffali per quel che riguarda prodotti come ad esempio olio di girasole farina e pasta un effetto sia della guerra in ucraina sia dei recenti rincari abbiamo intervistato quindi la direzione dell'ipermercato spazio conad per comprendere se questo comportamento sia giustificato o meno la guerra in ucraina sta producendo anche comportamenti anomali nella nostra quotidianità uno di questi riguarda ad esempio la spesa al supermercato vedete qua alla mia destra alcuni scaffali vuoti per quello che riguarda ad esempio il reparto olio ci troviamo allo spazio conad del rossini center qui come in altri esercizi commerciali di pesero e del resto del territorio della provincia ci sono categorie merceologiche che vengono per così dire prese d'assalto l'olio la farina la pasta un comportamento susseguente anche a un certo tam tam social incontrollato siamo venuti allo spazio conad a chiedere al responsabile alberto moretti se questo è un comportamento che ha una sua logica o è semplice psicosi sicuramente viviamo una situazione di tensione una tensione dovuta allo stato di guerra che c'è in ucraina ma bisogna tranquillizzare un po tutti quanti i consumatori sul fatto che attualmente non ci sono problemi sugli approvvigionamenti è vero che se da parte dei social o di altre situazioni si creano delle paure da parte un po di tutti quanti consumatori nasce una psicosi e qui c'è una corsa all'approvvigionamento che può fare ovviamente solo del male in questo momento perché problemi ripeto sulle forniture delle merci non ce ne sono assolutamente se tutti quanti richiedono alcuni prodotti si possono creare delle rotture di stock ma soprattutto si possono creare anche degli delle difficoltà negli approvvigionamenti e lungo le filiere con un inevitabile aumento di prezzi per cui questa è una situazione che deve essere evitata bisogna fare gli acquisti secondo le proprie necessità familiari e penso che da un punto di vista della disponibilità dei prodotti non c'è nessun rischio noi come conad siamo il più grosso il più grande gruppo distributivo presente in italia per cui ci stiamo adoperando quotidianamente per garantire la merce negli scaffali e soprattutto salvaguardare il potere d'acquisto dei consumatori in questo momento di forti tensioni commerciali comportamenti anomali che generano anche azioni inusuali per l'azienda ad esempio quella del razionamento lo vedete qua massimo due prezzi due pezzi per carrello una scelta ad esempio sull'olio di semi di girasole fatta dall'azienda tutela del consumatore si lo facciamo però per la tutela dei consumi familiari faccio un esempio l'olio di girasole è il classico prodotto che serve più all'industria di trasformazione che al singolo consumatore oggi viene usato solo esclusivamente per friggere con dei consumi che sono limitati alla frigitura di alcuni prodotti se questo prodotto chi lo deve trasformare non lo trova e si rivolge a noi è evidente che lo toglie per il consumo familiare il motivo per cui è stato messo un limite a tutela proprio dell'acquisto delle singole famiglie va detto che qui allo spazio cona del rossini center la maggior parte delle corsie di scaffali sono pieni e riforniti i vuoti si creano soprattutto come detto nell'olio nella pasta nella farina nel riso categoria in cui non incide però solo la guerra in ucraina come dinamiche comportamentali ma anche il continuo rincaro dei prezzi del pane delle materie prime c'è anche un diffuso sentimento di fare scorte ora per poi avere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che si creeranno nelle settimane a venire anche questo crea crea tensione noi stiamo assistendo a degli aumenti che sono figli del periodo del covid lo sapevamo ancora l'anno scorso che con l'anno nuovo ci sarebbero stati possibili aumenti su alcune categorie commerciali lo nostro sforzo è quello di riconoscere gli aumenti all'industria ma sobbarcarci noi come azienda il prezzo diciamo finale nei confronti dei clienti per salvaguardare appunto il potere d'acquisto motivo per cui stiamo ritoccando veramente pochi pochi prezzi per evitare che ci siano aumenti che possono generare disagio nei bilanci nei bilanci familiari 150 famiglie pesaresi pronte ad ospitare profughi provenienti dall'ucraina 50 mila euro già raccolti e donati questi alcuni dei numeri dell'azione della caritas diocesana di pesaro in queste terribili settimane di guerra quasi 50 mila euro già raccolti donati e inviati all'ucraina e ancora 135 famiglie pesaresi che hanno dato disponibilità ad accogliere famiglie in fuga dalla guerra sono questi alcuni dei numeri dell'azione della caritas diocesana di pesaro che dall'inizio del conflitto si resa disponibile a convogliare la raccolta fondi da recapitare all'omologa caritas ucraina è partito il primo bonifico di oltre 48 mila euro ma ancor più complesso di gestire denaro da inviare in ucraina e la gestione dei profughi in arrivo sul territorio un'accoglienza che si sta mettendo in discesa di fronte alla tanta disponibilità delle famiglie pesaresi per quanto riguarda l'atto dell'accoglienza stiamo ricevendo veramente tantissime chiamate da tutta la comunità pesarese che in ogni forma di modo si sta dando disponibile per ospitare o sostenere veramente le famiglie che stanno arrivando abbiamo attivato in coordinamento appunto con le altre persone che ho citato prima una primissima accoglienza nella parrocchia di villa fastigi e in futuro stiamo studiando il modo di promuovere un'accoglienza più a lungo termine anche per queste famiglie chiaramente sempre in contatto con le istituzioni prefettura comune e tutti gli altri ad oggi a pesaro sono arrivate poco meno di 150 persone provenienti dall'ucrania ma chiaramente se ne prevede un numero molto più ingente proprio a livello nazionale quindi immaginiamo per ricaduta anche nel pesarese è molto bello anche sottolineare che ci sono state almeno 150 famiglie che hanno dato la disponibilità ad accogliere queste persone chiaramente è un'accoglienza che va verificata nel senso che va capita e compresa per quanto tempo poi c'è questa disponibilità delle famiglie nel frattempo sappiamo che comunque anche la prefettura si sta attrezzando maggiormente per riuscire a far fronte a quella che è un po' una nuova crisi umanitaria di questo di questo periodo donazioni e accoglienza due linee d'azione di spirito cristiano meritevoli di ringraziamento inizio ringraziando poi capita anche diciamo a proposito il nostro arcivesco come presidente di caritas perché diciamo ecco ha attivato anche una raccolta fondi presso le parrocchie presso le comunità parrocchiali la prima domenica di quaresima e sono testimone diciamo continuo a essere testimone di questa generosità perché è stata attivata questa raccolta fondi che già diciamo raggiunto una cospicua cifra siamo arrivati quasi a 50 mila euro e oggi partiranno tutti questi soldi diciamo con un bonifico per verso caritas italiana per essere poi immediatamente diciamo mandati in caritas ucraina le caritas diciamo delle regioni limitrofe per far fronte diciamo ai bisogni delle persone sfollate quindi questo è un grande diciamo così ringraziamento al territorio ma un ringraziamento anche per la rete di solidarietà si chiamava tatiana muilan la donna ucraina di 32 anni deceduta sabato nel drammatico incidente che ha visto un pullman rovesciarsi in autostrada all'altezza di cesena tatiana come vi abbiamo raccontato nel tg di ieri sera era diretta a pesaro assieme ai due figli di 5 e 10 anni dove sarebbe stata ospitata da parenti che risiedono in zona loreto i due figli stanno per essere dimessi dall'ospedale di cesena e verranno ad abitare a pesaro assieme alla mamma la sorella e la nonna di tatiana che a giorni dovrebbero lasciare l'ucraina ed ora vi lasciamo qualche istante in compagnia di queste immagini e queste note sulle note di image e give peace a chance di john lennon le voci dei bambini della scuola primaria corridone di fano hanno intonato oggi canti di pace in un flash mob allestito all'ingresso principale dell'istituto di via gramsci un'iniziativa contro la guerra in ucraina accompagnata dallo sventolio di bandiere della pace e dai tanti elaborati grafici realizzati sul tema dall'istituto diretto dal preside michele locarini un messaggio di crescita verso un evento di difficile comprensione per i bambini che è stato applaudito anche dal sindaco massimo seri e dagli assessori samuele mascarin e barbara brunori ed ora ci spostiamo nella frazione di padiglione dove il comune di tavuglia ha organizzato un'importante opera di pulizia e sviluppo di videosorveglianza su un parco spesso teatro di vandalismi da parte di alcune baby gang nonché di abbandono di rifiuti vediamo quindi il servizio di edoardo orazzi ci troviamo questa mattina nel parco giochi a fianco della scuola elementare di padiglione per una problematica che da tempo da ormai qualche anno viene riscontrata dai cittadini di padiglione ovvero che i ragazzi e i bambini spesso di notte o di sera lasciano in giro cartacce, bivacchi, lattine e altri numerosi rifiuti oltre ad aver dato fuoco anche a delle panchine, a dei tavoli quindi i problemi sono tanti qui presenti oggi l'associazione del verde un'associazione che da tempo, da anni ormai sotto la guida del comune di tavuglia sta cercando di pulire le zone del territorio presente qui anche il vice sindaco di tavuglia Laura Macchini che ha risposto alle nostre domande in merito a come potrebbe essere risolta questa problematica abbiamo organizzato in tempi record questo evento che abbiamo chiamato un comune più pulito è un titolo che nasce da qualche anno fa prima della pandemia un gruppo di ragazzi del nostro comune hanno deciso di andare frazione per frazione tutti i sabati a pulire scarpate, fossi, parchi l'abbiamo fatta come dico adesso in maniera molto repentina dopo gli ultimi fatti che sono accaduti qualche giorno fa in realtà sono fatti che vengono perpetrati e vengono continuamente visti in questo parco soprattutto perché come vedete è molto carino ma si presta molto bene è un parco che di sera è abbastanza buio, è riservato, le scuole sono chiuse diciamo che diventa terra, terreno fertile per queste baby gang e questi ragazzi che insomma si divertono a bruciare le panchine e il tavolino e in più vediamo quanta sporcizia, abbiamo raccolto non so quanti sacchetti di sporcizia e soprattutto bottiglie di birra, lattine, tutto buttato giù nel fosso quindi vogliamo dare oggi, chiaro non risolviamo nulla però volevamo dare un esempio e volevamo dire ai cittadini che noi siamo qua che non abbandoniamo nessuno ho saputo per certo chi sta dando fuoco a queste panchine e sono bambini, ragazzi, 12-13 anni quindi qui io dico anche, lo so, qualcuno non starà bene ma dove sono i genitori a breve installeremo delle telecamere un intervento che non è da poco perché avendo diverse vie di entrata a questo parco dovremo mettere diverse telecamere a un costo di 30.000 euro se questa fosse la soluzione del problema saremo tutti molto contenti io ho paura che, sì, sicuramente non verranno più qua ma andranno in altri posti dove trovano comunque zone meno utilizzate di tutte le frazioni del comune di Tavuglia Padiglione è quella che negli ultimi 20 anni ha avuto veramente un'esplosione a livello di edifici, a livello di costruzioni tant'è che si parla di Padiglione, il centro vecchio, le vecchie famiglie è tutta una parte nuova dove ci sono tantissime abitazioni e quindi altre tante famiglie è chiaro che questa integrazione negli anni non posso dire che non ci sia stata ma in maniera sempre molto lenta e mai pronta a quelle che sono le esigenze è stato costruito per 20 anni senza dare nessun servizio senza pensare di costruire un bar piuttosto che un punto di aggregazione noi con la nostra amministrazione, ormai l'amministrazione Panucci ha 7 anni di vita abbiamo cercato veramente di rincorrere e di dare delle soluzioni a una problematica che ci siamo trovati Entro il mese di marzo partirà il nuovo progetto di archeologia urbana denominato Pesaro Medioevale 21 attraverso una convenzione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio il Comune di Pesaro e l'Università di Urbino verranno infatti avviati studi di topografia sulla città di Pesaro che possano includere sia la rilettura dei dati archeologici esistenti sia promuovere nuove indagini il periodo di interesse del progetto riguarda dieci secoli del Medioevo pesarese ancora scarsamente delineati dopo l'esibizione già fissata al 7 giugno dei Dinosaur Junior un altro grande concerto internazionale si aggiunge alla prossima estate pesarese quello dei King of Convenience il duo indie folk di origine norvegese si esibirà infatti il 24 luglio nell'anfiteatro del Parco Miralfiore il concerto di Giancane previsto invece sabato 19 marzo al Teatro Sperimentale è stato ufficialmente rinviato al 14 maggio a causa della positività al Covid-19 dell'artista inserito nella rassegna musicale Playlist Pesaro organizzata da Amat con il contributo di Biper Banca sarà la città di Pergola a rappresentare l'intera regione Marche al concorso RAI Il Borgo dei Borghi indetto dal nuovo format di viaggi Il Chilimangiaro un'importante opportunità per la città che è stata presentata oggi in una conferenza presso la Confcommercio di Pesaro Il Borgo Storico di Pergola finisce in tv su RAI3 per essere precisi dove nel programma Il Chilimangiaro rappresenta la regione Marche nella sfida di Il Borgo dei Borghi nella conferenza stampa di oggi è venuta Pesaro nella sede della Confcommercio presenziata anche da alcune rappresentanze dell'itinerario della bellezza come Pesaro e Fossombrone e rappresenta il sindaco di Pergola orgogliosa di questa vetrina importante sia per il suo comune che per le Marche Pergola ha l'onore in questo caso, in questa sfida di rappresentare l'intera regione Marche all'interno di questa competizione, di questa sfida che vede da 20 borghi i protagonisti quindi attraverso il sito della RAI nella pagina dedicata appunto al Borgo dei Borghi sarà possibile esprimere la propria preferenza e votare quello che si vuole scegliere come il borgo appunto dei borghi noi abbiamo l'onore di rappresentare l'intera regione e credo che sia un'occasione di visibilità per tutto il territorio in questo caso l'invito a tutti che rivolgiamo è di votare Pergola proprio per sostenere le Marche, sostenere tutto il nostro bellissimo territorio che abbiamo la fortuna di vivere e che vogliamo in questo caso mostrare e aprire ai visitatori si può votare sino al 3 aprile si può esprimere un voto al giorno quindi è importante non solo votare ma farlo anche tutti i giorni e il borgo poi vincitore verrà proclamato il 17 aprile in prima serata su RAI 3 Quali sono secondo lei le particolarità per cui Pergola è stata selezionata tra i tanti altri borghi delle Marche? Noi abbiamo i bronzi dorati, dei reperti veramente unici, meravigliosi che abbiamo l'onore di custodire nel nostro museo e sicuramente rappresentano un'eccellenza quindi credo che questi siano un elemento a favore della nostra candidatura abbiamo tanti prodotti tipici primo tra tutti il vino che tradizionalmente caratterizza il nostro territorio insieme al tartufo e tanti altri prodotti abbiamo delle colline meravigliose un paesaggio meraviglioso quindi credo che questi possano essere alcuni degli elementi che hanno portato a far sì che Pergola possa rappresentare tutto un territorio più ampio all'interno di questa sfida Anche marzo è mese di tartufo e a Fossombrone lo si degusta abbinato ad un buon vino connubio che si svilupperà nei prossimi due weekend con il festival del tartufo bianchetto e del vino bianchello DOP 19, 20, 26 e 27 marzo 4 giornate e 4 serate per celebrare la mostra del bianchetto di Fossombrone che quest'anno in occasione della sua 38esima edizione si trasforma in festival del tartufo bianchetto e del vino bianchello DOP un nuovo format per promuovere e valorizzare un binomio unico tra tipicità dell'area forsempronese come il tartufo bianchetto e il vino bianchello 4 date in cui sarà possibile trovare lungo corso Garibaldi espositori di artigianati e prodotti tipici commercianti delle eccellenze no gastronomiche e soprattutto non mancheranno stand e ristoranti con menu ad hoc Fossombrone rifà il look e fa partire questa manifestazione nazionale dove per la prima volta un vino ha un tartufo che lo corteggia oggi la presentazione ufficiale alla stampa ma anche una gara tra ristoratori di piatti e di menu che troveremo per tre settimane qui a Fossombrone ma naturalmente l'idiglio è proprio tra il vino e il tartufo dove la vigna, il bosco, il cavatore e lo chef tutti insieme riescono a regalare a questo fungo primaverile il tartufo bianchetto, marzuolo, tuber borchi un'identità che può nel tempo raccontare Fossombrone come una delle grandi capitali del tartufo primaverile e che guarda il futuro è un festival che sarà anche all'insegna di convegni, show nonché supportato dalla buona tavola dei ristoratori forse empronesi che saranno veicolo della diffusione del gusto attraverso proposte di menu di tartufo a prezzi calmierati Siamo molto contenti perché la stagione sta promettendo bene parliamo del tartufo bianchetto, del bianchello che è un nostro vino che è stato riqualificato notevolmente negli ultimi anni il bianchetto è il primo tartufo dell'anno quindi siamo contenti di questa nuova apertura che c'è all'interno anche del comune, della Proloco che ci ha aiutato molto quindi c'è una bella sinergia proprio a livello di territorio dove sono state coinvolte anche l'AIS sono state coinvolte tante tante persone e tante associazioni questa è la cosa più importante cercare di fare gruppo per ripartire tutti insieme e dare valore al territorio forse empronesa La nostra è una vallata di tartufi io la definirei quattro stagioni perché in ogni stagione si trovano delle varietà di tartufo adesso è il periodo del bianchetto Fossombrone fa questa meravigliosa festa che sarà una forma di attrazione turistica oltre che gastronomica quindi è tutto un territorio che tra le coltivazioni atte a tartufo e tra la ricerca spontanea abbiamo la possibilità di servire il tartufo 12 mesi all'anno che è una cosa abbastanza unica quindi è chiaro che il re è il tartufo bianco prezioso, pregiato di Acqualagna però abbiamo tanti altri tartufi che in cucina possono dirle a loro E allora complimenti al comune di Fossombrone per questo bel evento adesso andiamo a vedere quali sono i programmi su Rossini TV questa sera serata di grande cinema su Rossini TV alle 21.20 infatti vedrete questo film che si intitola Non tutte le ciambelle riescono col buco la regia è di Giorgio Bertuccioli che è un regista pesarese e racconta il commissario Panizza rientro da una vacanza deve risolvere il caso di un rapimento di una ragazzina le indagini però si infitiscono con vecchi e nuovi problemi il finale è davvero sconcertante quindi non perdetevi questa prima serata di Rossini TV e poi vi ricordiamo anche domani la nostra rassegna stampa alle 7.20 in diretta in TV e anche sulla nostra pagina Facebook e invece giovedì torna una nuova puntata di Insieme a Canestro vi anticipiamo già quelli che saranno gli ospiti alle 21.20 Walter Magnifico che è brand ambassador della VL e Alessandro Mengucci che è il responsabile dei rapporti pubblico e tifoseria e poi vi diamo anche un'anticipazione su dove saremo con le nostre telecamere la prossima domenica prossima domenica le 11.30 saremo presso la parrocchia di Santa Croce per trasmettere a tutti voi la diretta appunto della Santa Messa e allora grazie per averci seguito anche questa sera vi ricordo ancora se non vedete più Rossini TV sul canale 633 risintonizzate i vostri canali e cercateci sul nuovo canale di Rossini TV cioè il canale 80 grazie e buona serata grazie a tutti